Oggi PD e Libera Me insieme rappresentare il centro-sinistra non per fare un nome per queste elezioni perché ci sarà tempo ma per fare una denuncia su quella che considerate una fuga del sindaco del primo cittadino. Il Partito Democratico sentiva l'esigenza di fare una riflessione con la stampa e quindi con la città su un fatto politicamente rilevante che è quello che un'amministrazione lascia con un anno e mezzo di anticipo il palazzo dopo aver ricevuto un mandato per stare almeno cinque anni e lo fa bocciando se stessa perché di fatto quel progetto messo in campo nel 2018 che doveva vedere De Luca impegnato sindaco per dieci anni è stato tradito, è stato bocciato da De Luca stesso che ha bocciato anche tutta la sua giunta perché candida il direttore generale del comune ma nessuno degli assessori uscenti non li ritiene all'altezza di prendere il suo posto e quindi fa la stessa operazione che ha fatto a Santa Teresa di Riva dove ha governato per un periodo, non si è ripresentato da sindaco uscente, così non si è dovuto sottoporre al giudizio degli elettori e ha messo un suo uomo di fiducia a salvaguardia del suo operato amministrativo che devo dire è stato molto deficitario. Bisogna fermarsi a fare una riflessione perché in questa città non può passare tutto come normale, non è normale che un sindaco in piena pandemia con la curva dei contagi che purtroppo negli ultimi giorni sembra risalire se ne vada quando lui è la massima autorità sanitaria della città, non è normale che un sindaco se ne vada quando si sta decidendo se il comune andrà in dissesto oppure no ed è lo stesso sindaco che dice che ha già salvato la città e ha salvato i conti pubblici e in realtà così non è. Non è normale che un sindaco lasci anche la città metropolitana che gli era affidata in qualità di sindaco della città di Messina e lì invece i bilanci non sono stati approvati. Il sindaco si dimette come lui stesso ha dichiarato per ambizioni politiche perché aspira a palcoscenici a suo dire più importanti, cioè quelli della regione. Però io reputo un atto di grave irresponsabilità il fatto che la giunta si sia ugualmente dimessa perché questo ha creato un pericoloso vuoto amministrativo all'interno del nostro comune per cui tutta una serie di atti che sono importanti nella vita quotidiana di un ente non possono essere adottati. Ovviamente è già emersa la questione del TSEO, può emergere la questione relativa alla chiusura di una scuola e tanti altri atti che fanno parte dell'amministrazione quotidiana. Ciò si aggiunge che siamo in una fase di stallo amministrativa anche rispetto a dei liberi importanti già adottati da questa giunta, pensate al bilancio previsionale, pensate al piano di alienazione degli immobili, pensate alla rimodulazione del piano dell'equilibrio che noi non possiamo adottare e trattare, meglio ancora dire, perché il segretario generale ci dice che devono essere prima sottoscritte dal commissario quando arriverà. C'è una certezza in questa polemica che si sta giorno dopo giorno incrementando tra il Presidente della Regione che tarda a nominare un commissario, per carità non è neanche una scelta facilissima perché siamo una città metropolitana, è il sindaco quello di Luca. Ci sono due dati certi e non pugnabili. Il primo è che comunque questa questione, questa fase di stallo deriva dalle dimissioni del sindaco, quindi non è stato causato da un evento soprannaturale. Secondo, ed è altrettanto importante, che certamente c'è soltanto una vittima innocente e questa vittima è il Comune di Messina.